Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirvi il meglio. Grazie a tutti! Se temporali molto forti colpiranno l'Italia, nel periodo compreso tra domani notte, domenica e fino alla mezzanotte di lunedì, le piogge cominceranno dall'estremo nord, per poi estendersi gradualmente al centro e al sud. Questi temporali saranno più potenti lunedì. Domani notte, domenica 21 luglio, ci saranno quindi piogge e temporali forti solo sul nord Italia, per poi, a partire dal lunedì 22 luglio, raggiungere il centro e il sud. Questi temporali aumenteranno di intensità soprattutto lunedì nel sud Italia e sarà accompagnato da grandine, con rischio allagamenti e forti venti, calo delle temperature e maltempo, e quindi le zone interessate dalle piogge nel periodo da domenica notte a lunedì notte, 22 luglio, sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata di Puglia. Ricordiamo ancora che lunedì le piogge saranno più forti soprattutto al centro e al sud Italia. Qualsiasi altra notizia importante proveremo ad aggiornarvi più tardi.